Ieri il sindaco di Asti Giorgio Galvagno insieme all'assessore Maurizio Lattanzio ha voluto illustrare il bilancio 2011. Lo ha fatto con una conferenza stampa anche per rispondere ad alcune polemiche ed accuse conseguenza di mancati trasferimenti e l'impossibilità di utilizzare oneri di urbanizzazione per oltre 7 milioni di euro. Il bilancio sarà portato in consiglio per l'approvazione il 10 e 11 gennaio prossimo ma il sindaco ha voluto anticipare a tutti i contenuti e rilanciare così con nuovi progetti il suo impegno dissipando le voci che lo volevano candidato alla presidenza della fondazione Cassa di Risparmio. Uno viene eletto in un posto e bisogna essere fedeli al mandato, io l'ho sempre detto, a me hanno accreditato quella soluzione, certo che è piacevole andare in un ente così prestigioso, anche più consono a un certo tipo di impostazione, chi voglia fare delle attività di natura culturale, non dico riposante perché è tutto impegnativo, però è diverso, qui è la prima linea totale, il sindaco è la prima linea, ma io sono talmente onorato e talmente orgoglioso di fare questo mestiere che fino a quando gli astigiani lo consentiranno e sono stato eletto e andrò fino a fine del mandato, naturalmente che non mi mandino a casa i consiglieri o altri, quindi non sono mai stato stanco, sono stato un po' dispiaciuto nel vedere che non tutti comprendono l'onerosità e la faticosità di questo lavoro e l'esigenza quindi di essere presenti, attivi, forti, di non scoraggiarsi male, io non posso fare delle cose senza una spinta, quando io sento che ho la spinta dietro anche della gente io poi vado avanti, quindi ho sentito che c'è una forte volontà di reagire alla situazione perché è difficile in tutto il paese e allora di chi io ci sono fino alla fine. Naturalmente un bilancio di sacrifici, sono stati apportati praticamente i tagli per 7 milioni di euro. Sì, noi abbiamo fatto su 7 giorni di bilancio, ne abbiamo fatti 5, quindi si concluderanno con gli ultimi due, quelli delle votazioni sostanzialmente, è un bilancio di sacrifici ma grazie a Dio li abbiamo fatti verso l'amministrazione, risparmiando tutto la risparmiabile in modo da non tagliare i servizi e io dico che i cittadini, certo c'era qualche piccolo ritocco, ma sostanzialmente i servizi alla città non vengono toccati e con un bilancio sano, concreto, realistico creiamo anche le premesse per poter continuare bene, oggi è necessario avere i conti in ordine per poter andare avanti. Avevamo parlato nei giorni scorsi delle difficoltà attraversate dalla Mensa dei Poveri di Corso Genova gestita dalle Suore della Pietà, mentre ieri il Sindaco ha confermato che entro generale a Naio saranno stanziati nuovi fondi, la provincia di Asti ha già deliberato la concessione di un contributo di 10.000 euro all'Associazione Banco Alimentare, di cui 2.000 destinati proprio alla Mensa sociale. I soldi saranno comunque tutti finalizzati all'acquisto di derrate alimentari da distribuire agli enti caritatevoli situati nella provincia di Asti. La provincia di Asti, ha detto la Presidente Maria Teresa Armosino, in questo particolare momento di difficoltà, soprattutto per i ceti sociali più deboli, con questo atto ha voluto contribuire a sostenere indirettamente gli indigenti astigiani e i loro bisogni primari. Ed è deceduto ieri mattina a Cessole il dottor Pietro Rizzoglio, 96 anni, il medico condotto e figura carismatica di primo piano della Langa Astigiana. A trovarlo senza vita nel suo letto è stata la nipote che ogni giorno da una casa vicina andava nell'abitazione del nonno per preparargli la colazione. Pietro Rizzoglio era conosciuto da tutti per la sua bontà di mente e di cuore, attivo nel corso della guerra partigiana, si era impegnato per salvare la vita di diversi ebrei ricercati per essere deportati. Aro Caverano è stato il Presidente del Comitato di Liberazione Nazionale. A 92 anni era stato eletto Consigliere Comunale a Cessole. Mercoledì prossimo era in programma proprio l'inaugurazione della Biblioteca del Paese intitolata al suo nome. E con questo da Asti anche per oggi è tutto. Grazie per averci seguito. La linea torna allo studio.